Un Ateneo in forte crescita qualitativa e quantitativa. Luca Brunese, rettore dell'Ulimol da circa quattro mesi, prosegue il lavoro già avviato dal suo predecessore Gianmaria Palmieri con alcuni elementi innovativi e punta decisamente sull'ampliamento dell'offerta formativa e sui servizi da erogare agli studenti polisani e a quelli provenienti dalle regioni limitrofe di Abruzzo, Campania, Puglia e Lazio. Intanto, dal primo agosto, sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2019-2020 e il rettore Brunese elenca tutte le opportunità, soprattutto lavorative, che l'Università del Molise offre ai futuri laureati. Le iscrizioni vanno bene, siamo soddisfatti, siamo in linea con le iscrizioni dell'anno scorso, che è stato un grande risultato, quindi saremmo orgogliosi di mantenere questa situazione, questo stato. Quali offerte formative dell'Ulimol rispetto al passato quest'anno? Noi manteniamo la nostra trasversalità, quindi ci sono tanti corsi laureati sviluppati nei sei dipartimenti. Quello nuovo di quest'anno è la scuola di specializzazione in patologia clinica, che da quest'anno è aperta anche agli studenti non laureati in medicina, ai laureati non in medicina, quindi in scienze biologiche per esempio, che è una grande novità. E poi lavoriamo per qualche novità anche sulle scuole di specializzazione legate al corso di laurea in medicina, speriamo per il prossimo anno. Quali sono i vantaggi per le matricole per gli studenti che scegliono l'Università del Molise? Quest'anno mettiamo particolare attenzione su quelli che sono i servizi che l'Università offre agli studenti. Abbiamo mantenuto l'offerta per quello che riguarda i trasporti, che scadrà gratuita per tutti quelli che si iscrivono entro il 20 settembre e abbiamo aggiunto una novità che è il conto corrente gratuito con servizi ultra agevolati per tutti i nostri studenti dell'Università. Ci aiuta il fatto di avere in questa trasversalità la possibilità di offrire al territorio corsi di laurea che spaziano da medicina all'archeologia, alle scienze economiche, alla giurisprudenza. E questo è legato all'alto livello qualitativo dei nostri docenti. Alto livello qualitativo, addirittura un docente dell'Unimo, un suo docente, è diventato ministro per gli affari regionali. Con grande orgoglio il professor Francesco Boccia, che è il nostro docente di economia aziendale, è stato fresco nominato ministro per gli affari regionali, un ministero di particolare rilievo e di particolare significato per il Molise. Francesco mi ha garantito che non dimentichi naturalmente l'Ateneo nel quale lavora e sicuramente ci aiuterà in qualche bel progetto a livello regionale. E quali sono invece le opportunità lavorative per i neolaureati dell'Unimo? Anche nelle classifiche che a volte non ci trattano bene per motivi più legati al territorio che all'Ateneo, su questo elemento viene dato particolare risalto ai risultati della nostra Università. Questo è legato secondo me non solo al livello elevato qualitativo dei laureati, ma anche al fatto che noi abbiamo sempre avuto una particolare attenzione a indirizzare i corsi laurea verso le opportunità lavorative migliori per i nostri giovani laureati. Le iscrizioni all'Unimo scadranno il prossimo 16 ottobre.